Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocese di Brescia. Santa Messa di ringraziamento a Montichiari per la beatificazione di Monsignor Luigi Novarese, fondatore del Centro Volontari della Sofferenza. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Monari. Il Duomo di Santa Maria Assunta di Montichiari ha ospitato domenica 9 giugno la Messa di ringraziamento per la beatificazione di Monsignor Luigi Novarese, fondatore del Centro Volontari della Sofferenza e della Comunità dei Silenziosi Operai della Croce. Il Vescovo di Brescia, Luciano Monari, ha concelebrato insieme a Monsignor Bruno Foresti e a diversi sacerdoti della zona. Di questo illustre operatore del bene, ha detto Monari, dobbiamo saper cogliere due intuizioni. La prima riguarda la sua capacità di comprendere quanto la debolezza umana faccia parte della nostra vita, necessariamente. Nessuno di noi è perfetto e il passare degli anni prima o poi ce lo insegna, ma è proprio nei momenti di sofferenza che va fatto uno sforzo per crescere spiritualmente, come ci dimostrano i tanti testimoni dell'esperienza di Monsignor Novarese, che hanno ben compreso la lezione del loro fondatore. Il Vescovo ha ricordato come i malati in particolare rappresentino nel corpo della Chiesa dei veri protagonisti attivi e non solo delle persone bisognose di cure e di solidarietà. Poiché l'ammalato è unione alla passione, morte e risurrezione di nostro Gesù Cristo. Giovanni Paolo II disse che l'ammalato è evangelizzatore, è santificante, la sofferenza è santificante, la sofferenza è redentrice.